Lasciamo a sinistra il cimitero di Sapri e doppiata la punta del fortino con il faro pisacane la facciamo alla graziosa insenatura di Sapri e correndo sempre in vicinanza della costa in un tratto in cui nel mare affiorano resti romani concludiamo il nostro viaggio arrivando a Sapri. Cittadina di aspetto moderno, florido centro agricolo con aziende artigiane e attività piccolo-industriali alimentari, mobili e marmo, frequentata stazione balneare con notevoli attrezzature ricettive e sportive e un porto turistico situata in una riparata baia del Golfo di Policastro cinta da una cerchia di colli boscosi. La cittadina di Sapri è diventata famosa per la vicenda dell'eroe risorgimentale Carlo Pisacane le cui gesta furono fissate nella poesia La spigolatrice di Sapri di Luigi Mercantini ispirata alla fallita spedizione di Sapri appunto di Carlo Pisacane del 1857 che aveva lo scopo di innescare una rivoluzione antiborbonica nel regno delle due Sicilie e nella quale Mercantini adotta il punto di vista innocente di una lavoratrice dei campi addetta alla spigolatura del grano che si trova per caso ad assistere allo sbarco incontra Pisacane e se ne invaghisce la donna parteggia per i 300 e li segue in combattimento invece di recarsi al lavoro ma finisce per assistere impotente al loro massacro da parte delle truppe borboniche ecco la poesia erano 300 erano giovani e forti e sono morti me ne andavo al mattino a spigolare quando ho visto una barca in mezzo al mare era una barca che andava a vapore e alzava una bandiera tricolore all'isola di Ponza si è fermata è stata un poco e poi si è ritornata si è ritornata ed è venuta a terra ci esser con l'armi e a noi non fecer guerra erano 300 erano giovani e forti e sono morti ci esser con l'armi e a noi non fecer guerra ma si inchinaron per baciare la terra ad uno ad uno li guardai nel viso tutti avevano aveano una lacrima e un sorriso i disser ladri usciti dalle tane ma non portaron via nemmeno un pane e li senti mandare un solo grido siamo venuti a morir per il nostro lido erano 300 erano giovani e forti e sono morti con gli occhi azzurri e coi capelli d'oro un giovin camminava innanzi a loro mi fece ardita e preso per la mano gli chiesi dove vai bel capitano guardò mi e mi rispose oh mia sorella vado a morir per la mia patria bella io mi senti tremare tutto il core ne potei dirgli vaiuti il signore erano 300 erano giovani e forti e sono morti quel giorno mi scordai di spigolare e dietro a loro mi misi ad andare due volte si scontrar con gli gendarmi e l'una e l'altra li spogliar dell'armi ma quando fur della certosa ai muri sudirono a suonar trombe e tamburi e fra il fumo e gli spari e le scintille piombaron loro addosso più di mille erano 300 erano giovani e forti erano 300 e non voller fuggire parean tremila e vollero morire ma vollero morir col ferro in mano e avanti a loro correa sangue il piano finché pugnarvi dio per loro pregai ma un tratto venne in me ne più guardai io non vedea più fra mezzo a loro quegli occhi azzurri e quei capelli d'oro erano 300 erano giovani e forti e sono morti che è voluto mettere in rapporto sapri con l'antico cidro questo più che una città fu un luogo fortificato che non ebbe mai esistenza propria politica e probabilmente sorse poco dopo l'ao come colonia di sibari si sa che nel 510 avanti cristo vi ripararono alcuni dei sibariti superstiti alla distruzione della loro città ma signora in che epoca sparisse ma il vero sito di scidro è molto controverso e per altri sarebbe dove ora si trova papasidero comunque la località di sabri fu abitata in epoca romana la cittadina è famosa nella storia del risorgimento italiano per avere dato il nome all'audace spedizione di carlo pisacane e di giovanni nicotera che imbarcatisi con alcuni compagni a genova il 25 giugno 1857 sul Cagliari si impadronirono del piroscafo si fermarono il 27 a Ponza dove liberarono 323 prigionieri politici e con essi sbarcarono sulla spiaggia tra Villammare e Sapri nella speranza vana che a loro arrivo le popolazioni sarebbero insorte avanzando nell'interno si scontrarono con le truppe borboniche e dispersi furono in gran parte trucidati dai contadini l'episodio come abbiamo visto è dedicata la nota poesia di Luigi Mercantini che prima ho declamato intitolata la spigolatrice di Sapri quindi si entra nell'abitato aggirando la punta del fortino sulla quale è il faro Carlo Pisacane su una torretta merlata della portata di 12 miglia subito dopo si vedono in mare delle arcate di costruzione romana dette camarelle probabilmente di ambienti adibiti a deposito di cereali si arriva quindi al lungomare e dal porticciolo dal quale si ha un bel panorama sul golfo nella notevole villa comunale è il monumento a Carlo Pisacane